Siamo in compagnia di Andrea Falvo, che è il presidente della Città delle Idee, e oggi si terrà proprio qui al Teatro Umberto un importantissimo evento, un incontro pubblico, dove sarà ospite lo scienziato Giulio Riga, dove appunto si parlerà di terremoti, di territorio e soprattutto di un algoritmo molto importante che poi comunque ci spiegherà lo stesso professor Riga. Nel frattempo vorrei parlare proprio con Andrea di questi eventi pubblici che si stanno diffondendo e delle possibilità che ci sono per la città della Mese Terme. Sì, grazie Riccardo, grazie a tutti gli spettatori. Noi in Città delle Idee riteniamo che sia ora che si rompano i classici e tipici schemi della politica. La politica non è altro che discutere di quelle che sono le problematiche dei territori e cercare le soluzioni migliori. Oggi noi siamo in una fase storica molto particolare, è finita la Seconda Repubblica, che le persone sono disilluse rispetto a una politica fatta solamente di slogan e sostanzialmente inconsistente. Questo cosa porta? Porta a due forme di reazione. Da un lato ci può essere rabbia elettorale, che poi sfocia in fenomeni come esempio il Movimento 5 Stelle, oppure può esserci un'altra forma di rabbia silenziosa, ma ugualmente magari pessima, che è l'assenzionismo, inteso proprio come rinuncia all'esercizio di un diritto importantissimo, qual è quello del voto. Perché parlo in questi termini? Perché non andando a votare si finisce sempre che chi ha più interessi personali, vota, ha più facilità per diventare massa critica, dopodiché abbiamo dei rappresentanti politici che sistematicamente tradiscono le nostre aspettative di poter vivere in un contesto sociale migliore e comunque in crescita. Andrea, io volevo solo dire un'altra cosa che vi differenzia da molte altre associazioni. Il fatto di alvalervi di competenze di professionisti, cosa che avete detto all'inizio della fondazione di questa città dell'Edea, ma soprattutto anche nell'ultimo incontro che avete fatto sul crowdfunding, molto importante, e cose nuove che riguardano la rete, che per la politica italiana forse non è proprio qualcosa di molto morbido. Voi siete innovativi su questo fronte? Noi siamo innovativi nella misura in cui non ci avvaliamo di professionisti, noi cerchiamo di valorizzare le leadership emozionali. Non è il titolo che fa l'uomo, in genere è sempre l'uomo che riesce a incidere sulle centinaia di cose che ci sarebbe bisogno di portare avanti per poter avere un contesto socio-economico in crescita, forte, migliore, capace di confrontarsi con realtà più importanti. Noi abbiamo definito, lo vedete nello schermo dietro almeno una porzione, una metodologia che consiste nel cercare di mettere ordine proprio per catalizzare le competenze, ma anche le passioni e le capacità, nonché i progetti e le idee, organizzando un sistema che possa dare la possibilità di incidere sulle cose concrete. Noi stasera organizziamo una riunione politica, discuteremo del ramo ambiente, sia sotto il profilo ambiente, inteso quindi argomento idrogeologico, inteso come anche risorse del sottosuolo. Io non sapevo che la mezzaterma potrebbe diventare come Montecatini, non abbiamo solamente Caronte, ce lo spiegherà meglio il professore Riga, abbiamo la possibilità di programmare una filiera del benessere, una filiera termale, anche la mezzaterma, o meglio la natura ci ha dato lo strumento. Poi dopo serve ovviamente la capacità degli uomini che abitano nei territori di vedere come poter fare per trasformare le risorse naturali in risorse economiche. È necessario che chi ha le competenze, chi ha la capacità, la volontà e la voglia, si impegni per affrontare questo tipo di problematiche. Non è detto che chi invece magari può avere interesse a occuparsi di formazione oppure a occuparsi di ristrutturazione di quella che dovrebbe essere la macchina amministrativa, nutra passione e interesse per questi argomenti specifici di stasera. Ed è giusto che comunque ci sia la capacità e la possibilità di catalizzare l'attenzione politica su argomenti specifici, superando, speriamo noi, la fase attuale caratterizzata, ecco qua da slogan, caratterizzata dai Salvini, che con ricette opinabili, comunque non capaci di affrontare lo spettro di tutte le cose che invece bisognerebbe tenere sotto controllo, magari ambiscono a assumere una leadership politica, però col dubbio e in merito alla cultura cosa si va a fare, e in merito alle politiche per il lavoro cosa si va a fare, e in merito alle politiche per l'assistenza alle imprese, perché noi oggi abbiamo il grande problema di un'economia di mercato malata, soprattutto qui al sud, soprattutto alla Mezzia. Noi non possiamo parlare di sviluppo se non capiamo che tutto lo sviluppo gira intorno alla economia di mercato. Perfetto, io a questo punto ringrazio Andrea Falvo di averci dedicato questo tempo, invito tutti i web ascoltatori a visitare la pagina Facebook, come pare che esiste anche un sito web, oppure siete in fase di strutturazione del sito web? La piattaforma web, noi andremo a realizzare una piattaforma web interattiva, ci stiamo lavorando, la presenteremo a brevissimo. Benissimo, quindi anche queste risorse umane, l'Ametine, bisogna diciamo sfruttare, anche se le sfruttare non è la parola giusta, però prendiamo consapevolezza del territorio, dell'Ametino, perché è un territorio molto vasto e molto bello, e soprattutto osserverete più tardi quello che si dirà appunto in questo bellissimo incontro organizzato dalla Città delle Idee. Riccardo Cristiano, l'Ametia, prego. Il comprensorio l'Ametino. L'Ametia è una federazione di comuni, di ambiti in l'Ametia Terme, però noi dobbiamo ragionare a tutta la piana di Santofemi, intesa come bacino o di riferimento, perché ci sono risorse personali in ogni angolo. Noi dopo il convegno sul crowdfunding del 29 dicembre abbiamo coinvolto un nuovo associato, che è un ingegnere che ha presentato un progetto sul crowdfunding a Boston da pochissimi giorni, ed è anzi finanziabile sulla piattaforma Kickstarter, cose che magari a priori uno può andare a sottovalutare l'importanza di andare a toccare argomenti tecnologici o comunque argomenti d'avanguardia, salvo poi scoprire che già il territorio in maniera naturale si adegua in piccole nicchie ai tempi. Noi dobbiamo prendere quelle piccole nicchie, come stasera faremo con il professore Riga, e portarle sotto i giusti scenari che meritano sempre con quale obiettivo? Obiettivo benessere, progresso e ricchezza. Mi sembra giustissimo. Quindi buon lavoro, buon proseguimento e grazie a Andrea Falvo per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi di Liberi TV. Grazie a tutti.